Il mondo delle creme spalmabili al cioccolato e nocciola ha un nuovo protagonista. Ferrero ha recentemente annunciato il lancio della Nutella vegana. La richiesta di alternative vegetali è in costante crescita. Ferrero punta al mercato dei consumatori vegani e di coloro che cercano opzioni senza latticini. Riuscirà a conquistare i cuori degli amanti della Nutella? La magia della Nutella risiede nella sua ricetta semplice ma golosa. Creare una versione vegana ha richiesto alcune astute sostituzioni per replicare la consistenza cremosa e il sapore inconfondibile. Il cambiamento più significativo è la rimozione del latte in polvere, ingrediente chiave della Nutella originale. Al suo posto, Ferrero ha optato per una miscela di farina di ceci e sciroppo di riso. La farina di ceci, ottenuta dalla macinazione dei ceci, fornisce una base dal sapore neutro e una consistenza cremosa. È un ingrediente popolare nella pasticceria vegana, noto per le sue proprietà alleganti ed emulsionanti. Lo sciroppo di riso, un dolcificante derivato dal riso, conferisce una dolcezza delicata e contribuisce alla consistenza liscia della crema. Questi ingredienti, accuratamente selezionati, lavorano in armonia per imitare le qualità della Nutella tradizionale. L'essenza della Nutella non risiede solo nella sua consistenza, ma anche nel suo caratteristico aroma e profilo aromatico. Per ricreare questa esperienza sensoriale, Ferrero si è affidata a una combinazione di aromi naturali e artificiali. L'inconfondibile aroma di nocciola rimane, ottenuto grazie all'uso di estratto naturale di nocciola. Tuttavia, per ottenere le desiderate note cioccolatose, è stato necessario un approccio diverso. La Nutella vegana utilizza aromi di cioccolato artificiali per compensare l'assenza del latte in polvere, che contribuisce naturalmente al gusto cioccolatoso della crema originale. Il sapore che ne risulta mira a evocare la familiare golosità della Nutella, seppur con una sfumatura leggermente diversa. Un aspetto della Nutella vegana che ha suscitato dibattito è il suo prezzo. L'alternativa vegana ha un prezzo notevolmente superiore rispetto alla sua controparte contenente latticini. Questa differenza di costo può essere attribuita a diversi fattori, tra cui l'approvvigionamento e la produzione degli ingredienti a base vegetale. La farina di ceci, pur essendo un ingrediente versatile, può avere costi di produzione superiori a quelli del latte in polvere. Inoltre, i processi di sviluppo e produzione dei prodotti vegani spesso comportano attrezzature e tecniche specializzate, che contribuiscono ad aumentare i costi di produzione. Questi fattori, combinati con la crescente domanda di opzioni vegane, influenzano il prezzo complessivo della Nutella vegana. Veganismo e convenienza Un'analisi comparativa del mercato Per comprendere il prezzo della Nutella vegana, è essenziale considerarla all'interno del mercato delle creme spalmabili al cioccolato e nocciola. La Nutella vegana ha un prezzo competitivo nel segmento premium delle creme spalmabili vegane. Diversi fattori contribuiscono a questa strategia di prezzo. Ferrero sfrutta la riconoscibilità del marchio e la reputazione del suo prodotto di punta, la Nutella. I consumatori potrebbero essere disposti a pagare un sovrapprezzo per una versione vegana di un marchio affidabile. Prime reazioni dei consumatori Il lancio della Nutella vegana è stato accolto con un misto di entusiasmo e scetticismo da parte dei consumatori. Le prime reazioni sono state contrastanti, riflettendo la natura soggettiva delle preferenze di gusto e le elevate aspettative associate al marchio Nutella. Alcuni consumatori hanno elogiato la Nutella vegana per il suo gusto e la sua consistenza incredibilmente simili alla crema originale, lodando Ferrero per aver creato un'alternativa vegana convincente. Altri, tuttavia, hanno espresso delusione, rilevando una sottile differenza di sapore e la mancanza della caratteristica ricchezza della Nutella originale. Consumo etico Esplorare le motivazioni alla base delle scelte vegane La crescente domanda di prodotti vegani, inclusa la Nutella vegana, riflette un più ampio cambiamento nel comportamento dei consumatori, guidato da considerazioni etiche. Molte persone stanno adottando il veganismo o stanno incorporando più scelte a base vegetale nella loro dieta a causa delle preoccupazioni per il benessere degli animali. Le pratiche di allevamento intensivo e il trattamento degli animali allevati a scopo alimentare sono stati oggetto di attenzione, portando alcuni consumatori a cercare fonti alimentari alternative che siano in linea con i loro valori etici. La Nutella vegana offre a questi consumatori un'opzione senza sensi di colpa per gustare una prelibatezza tanto amata senza compromettere i propri principi. L'ascesa del veganismo è stata accompagnata anche da un crescente interesse per le diete a base vegetale per motivi di salute. Sebbene la Nutella vegana sia commercializzata come alternativa vegana, è importante affrontare le indicazioni nutrizionali con occhio critico. Sebbene la rimozione del latte vaccino elimini il colesterolo, la Nutella vegana è comunque un prodotto alimentare lavorato. Contiene zucchero, olio di palma e aromi artificiali, ingredienti che dovrebbero essere consumati con moderazione nell'ambito di una dieta equilibrata. I consumatori dovrebbero diffidare dell'effetto alone della salute, per cui l'etichetta vegana potrebbe essere erroneamente interpretata come un'indicazione di salubrità generale. La Nutella vegana, come la sua controparte convenzionale, dovrebbe essere gustata come una leccornia occasionale piuttosto che come alimento base della dieta. L'impatto ambientale della produzione alimentare è un altro fattore significativo che influenza le scelte dei consumatori. Le diete a base vegetale sono spesso pubblicizzate come più sostenibili di quelle ricche di prodotti animali. Tuttavia, l'impronta ambientale della Nutella vegana non è priva di complessità. Se da un lato la rimozione del latte vaccino riduce l'impronta di carbonio del prodotto, dall'altro, l'uso dell'olio di palma solleva preoccupazioni in merito alla deforestazione e alla perdita di habitat. L'olio di palma è una coltura altamente efficiente, ma la sua coltivazione è stata collegata alla distruzione delle foreste pluviali, in particolare nel sud-est asiatico. L'impegno di Ferrero nell'approvvigionamento di olio di palma sostenibile è fondamentale per mitigare l'impatto ambientale della Nutella vegana. Il lancio della Nutella vegana rappresenta un passo significativo per Ferrero, a dimostrazione della volontà dell'azienda di adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori e alle tendenze del mercato. Poiché la domanda di alternative a base vegetale continua a crescere, la capacità di Ferrero di innovare ed espandere la propria linea di prodotti sarà fondamentale per mantenere la propria posizione sul mercato. L'ingresso di Ferrero nel mercato vegano apre a opportunità di ulteriore innovazione. L'azienda potrebbe esplorare lo sviluppo di versioni vegane di altri prodotti popolari, come i Ferrero Roche o i Kinder Bueno, per soddisfare il crescente segmento di consumatori vegani alla ricerca di dolci familiari. La Nutella vegana è arrivata, offrendo una variante vegetale di un classico tanto amato. Il suo arrivo ha suscitato discussioni sugli ingredienti, il prezzo, il gusto e le implicazioni più ampie per l'industria alimentare. Il successo della crema dipende dalla sua capacità di soddisfare le voglie degli amanti della Nutella e, allo stesso tempo, di attrarre le preferenze etiche e alimentari di una base di consumatori vegani in crescita. In definitiva, la decisione di abbracciare o meno la Nutella vegana spetta al singolo consumatore. Considerando attentamente i fattori discussi, gusto, prezzo, ingredienti, etica e impatto ambientale, i consumatori possono fare scelte consapevoli, che siano in linea con i propri valori e le proprie preferenze. L'arrivo della Nutella vegana rappresenta un passo verso un panorama alimentare più inclusivo e diversificato, in cui le opzioni a base vegetale non sono più una nicchia, ma parte integrante del mainstream.